Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Anticiclone sul Mediterraneo ma qualche temporale ancora presente. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 11 agosto. Nubi sparsi al mattino al nord ma con tempo asciutto. Ampi spazi di sereno al centro sud. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennino con acquazioni e temporali sparsi. Locali fenomeni anche sulle zone interne della Sicilia. Sole prevalente altrove. Inserate notate fenomeni in esaurimento ovunque salvo locali piogge al nord est. Ampie schiarite altrove. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo specie sui versanti tirrenici. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.